Questo video è offerto da... Un esordio diciamo amaro più che altro per il risultato perché abbiamo affrontato la partita come meglio credevamo per poter riuscire a portare a casa dei punti. E fino alla fine praticamente ci eravamo riusciti, poi il Siena è una squadra di altissima classifica come diceva il mister e quindi qualcosa dobbiamo pur concedere. Però secondo me se va dentro una delle prime occasioni potremmo portare a casa anche più di un punto perché comunque abbiamo concesso poco. Il mister ha detto che Gian Donato meritava questa chance perché si è allenato bene in queste settimane. Beh io faccio il mio dovere, la settimana mi devo impegnare al massimo e poi il sabato il mister che decide siamo tutti a disposizione, accettiamo le scelte. Ovviamente nessuno è contento di andare in panchina però quando si è chiamato in causa bisogna dare il massimo. Il mister è bravo nel recupero dei calciatori con GB, sta aumentando sempre di più il minutaggio. Adesso hai iniziato ad assaggiare le tue condizioni, però la tua sensazione quando sei entrato in campo con una squadra che comunque stava attaccando e stava creando tante difficoltà, qual è stata? La mia sensazione è stata che in campo eravamo messi bene. Per quanto mi riguarda a me personalmente io mi sento bene e ho cercato di dare il mio contributo alla squadra. Ripeto, purtroppo è andata male però ci abbiamo davanti ancora tutto il giorno di ritorno quindi non demorderemo.